Ben ritrovati, riparte dopo queste elezioni di domenica la nostra rubrica confronti in collaborazione con il consiglio della provincia di Trento, l'avevamo sospesa ovviamente per questioni di parcondicio, adesso ricominciamo i nostri confronti con i consiglieri provinciali che tra l'altro proprio oggi martedì e domani mercoledì ritornano in aula, quindi riprendono i lavori dell'aula, vi presento allora i miei ospiti in studio, conosciamo per la prima volta anche qui nei nostri studi di RTTR il consigliere della Lega Ivano Iob, ben arrivato consigliere Iob, grazie per aver accettato il nostro invito e ritroviamo il consigliere del PD Alessio Manica, ben arrivata anche lei Manica, grazie ad entrambi per essere qui con noi. Riprendiamo un attimo il filo del discorso di queste elezioni di domenica, è impossibile non chiedervi una riflessione su quanto è stato sancito dalle urne. Iob, partirei da lei, un buon risultato anche della Lega a Di Maro con il 50,16%, lei proviene proprio da quel territorio, è stato detto che questo voto è stato un po' un referendum anche su quanto ha fatto finora la Giunta, lei è d'accordo con questa visione, si è lavorato bene finora o comunque è meglio non adagiarsi sugli allori? Buongiorno, buongiorno a tre spettatori, grazie di questo primo invito. Di Maro abbiamo avuto il 50%, ma tutta la provincia ha premiato questa Lega, ha premiato questo modo di lavorare, ha premiato questa Giunta. Diciamo che di carattere io non sono quello che si siede a festeggiare le vittorie, ma vedo la vittoria come uno stimolo, uno stimolo per chi amministra, uno stimolo anche per questa Giunta a lavorare in questa direzione, se possibile ancora meglio e portare i risultati. Personalmente il lavoro dell'amministratore pubblico non deve essere solamente festeggiare le vittorie che per fortuna in questo periodo ridono alla Lega, ma pensare al lavoro e concentrarsi sul futuro immediato, medio e soprattutto voglio ringraziare oggi tutti i militanti che hanno lavorato per questo risultato. Soddisfatto. Senza dubbio. Manica, venendo invece alla situazione di Rovereto, che è il territorio invece dal quale proviene lei, la Lega è al 31%, il PD al 29,76%, dunque è un risultato del quale essere comunque in qualche modo soddisfatti. Anche questo è un punto di partenza, anche in direzione a lavorare, visto che poi il prossimo anno ci sono degli appuntamenti elettorali molto importanti come le elezioni comunali. Allora, credo che i risultati di Trento e Rovereto confermino l'esistenza di una comunità di centro-sinistra, per la quale il PD può essere il riferimento principale, non deve essere l'unico riferimento né egemone. Quindi io leggo quel risultato come l'invito al PD a cercare di ricostruire quel campo, che oggettivamente in questi anni si è un po' spezzettato, è andato in difficoltà. Quindi quello lì deve essere visto come un impegno in più per il PD, per rimettersi al tavolo e ricostruire una proposta alternativa a quella della Lega. La vittoria è netta, non c'è dubbio, penso anche che sia evidente come questa sia, come cinque anni fa, peraltro fu per noi, la vittoria del leader e quindi una vittoria che assegna un grande credito a Salvini. Lo dico anche vedendo che sul fronte delle comunali invece su tre comuni su quattro la Lega non arriva o al balottaggio o perde, ovvero quando ci si sposta dalla dimensione molto mediatica della politica attuale, quindi oggi Salvini è oggettivamente un marchio che tira, le condizioni cambiano e questo può dire al PD attenzione che quando ci porteremo la dimensione delle comunali l'anno prossimo, il tema sarà le proposte e le persone che metti in campo e in questo credo che il PD abbia molto da dare. Bene, allora archiviata la riflessione su quanto accaduto domenica al voto alle europee, addentriamoci un po' negli argomenti che stanno tenendo banco da diversi mesi ormai, anche in Trentino, in primis la tempesta vaia dello scorso ottobre, è stata appunto nominata a questa commissione speciale per valutare anche i danni e Iob e Manica sono appunto presidente e vicepresidente della commissione. Iob, intanto le chiedo, Di Mauro è stata una delle zone più colpite, ha subito anche una grave perdita, a che punto sono anche le opere di ripristino rispetto alla tabella di marcia che vi eravate dati e che i cittadini si aspettano. Ecco, purtroppo sì, Di Mauro è stato il paese che ha pagato più di tutti perché i danni economici si possono, tra virgolette, sistemare, ma noi abbiamo avuto la perdita della cara Michela e questo resterà purtroppo per sempre. Diciamo che la provincia si è impegnata fin da subito, il Comune è stato aiutato, c'è stata un'ottima collaborazione tra Comune e provincia, io provenivo dall'amministrazione del sindaco Lazzarone di Di Maro, Di Maro Folgarida e i primi 15-20 giorni i lavori di primo intervento, di prima emergenza sono stati veramente fantastici perché i vigili del fuoco, tutti gli operatori sono stati veramente professionali e veramente un ringraziamento, anche dopo mesi abbiamo ancora nel cuore quello che è successo e queste cose sono quelle che aiutano anche noi amministratori ad andare avanti, ad essere più impegnati. Ecco, i lavori sono partiti molto bene, poi c'è stato il blocco invernale, soprattutto la provincia ha avuto, i nostri tecnici provinciali, i dirigenti hanno dovuto fare un lavoro importante perché la progettazione ha comunque interessato tutta la valle del Rottian, abbiamo tre progettini, è stato diviso tutto il cantiere in tre punti, la parte bassa, la parte media e la parte alta del Rio, a brevissimo, probabilmente già questa settimana cominceranno i lavori che in realtà sulla parte terminale sono stati portati avanti da ditte private, sulla parte verso la strada, la parte dove proprio la frana ha colpito il campeggio, la parte del paese, mentre per la parte del bosco a brevissimo partiranno anche lì gli altri due cantieri. Diciamo che l'opera è importante, a livello provinciale abbiamo avuto centinaia di milioni di danni, quindi non è così facile e chiedo ai cittadini di Di Maro di portare pazienza ancora qualche giorno perché tutti noi vorremmo avere già le ruspe operative, gli scavatori che lavorano e vedere e lavorare avanti, però il lavoro che deve essere fatto, non deve essere fatto come magari è già successo anni addietro provvisoriamente, ma deve essere un lavoro fatto con capacità, con esperienza, con studio perché vogliamo lasciare un Rio Rottian al nostro futuro che sia un Rio sicuro, un Rio che non permetta il ripetersi di un avvenimento di questo tipo. Quindi ringrazio soprattutto l'ingegnere Decol che sta curando tutta la progettazione, ma tutti gli uffici, tutti i dirigenti perché veramente è un'opera importante. Non dimentichiamo che abbiamo tutto il Trentino che ha bisogno di interventi, quindi va affrontata a livello provinciale. Essendo stato così grande la tempesta vaia, così importante, non permette di intervenire direttamente in un punto, ma il lavoro va programmato su tutto il territorio, quindi è normale che ci sia un leggero ritardo, ma siamo nei tempi normali. Che tempi abbiamo? Per quanto riguarda le domande che sono 860, crediamo di poter avere il quadro completo entro la fine di giugno, i primi di luglio, sempre che riescano, ma comunque luglio è un mese che ci permetterà sicuramente di dare risposta per quanto riguarda questo settore. Invece per quanto riguarda i lavori, cominciare, ripeto, mi auguro che questa settimana, già la settimana scorsa si è visto qualcosa, però incominci il grosso dei lavori, di poter terminare entro la fine dell'anno prossimo. I tempi sono questi. Manica, chiedo anche a lei come sta lavorando la commissione, insomma tra un po' inizia anche la stagione estiva, per cui qual è ad oggi la situazione della percorribilità dei sentieri e anche se le risorse che sono state stanziate sono sufficienti, secondo lei? Bene, partiamo dalla commissione. Io credo che la commissione che dirige Ivano stia lavorando bene e abbia lavorato bene. Ha lavorato tanto ed ha permesso in questo periodo, anche comunque difficile per la comunità, perché appunto Vai ha investito tutto il Trentino e l'ha messo in qualche modo in crisi, la commissione sia stata un bel luogo di confronto e di ascolto della comunità. La mole di audizioni che è stata portata avanti ha permesso di confrontarsi con anime diverse, interlocutori diversi, realtà del nostro territorio che per qualche motivo hanno a che fare con la manutenzione del territorio. E questo è stato comunque utile per farsi un quadro complessivo. C'è evidentemente un problema di doppio binario, nel senso che la commissione sta appunto facendo questo grande lavoro di ragionamento, diciamo così, poi però chi tiene in mano la gestione della ricostruzione è la giunta e quindi non è che la commissione può incidere più di tanto su tempi o velocità o stanziamenti che appunto appartengono alla giunta. Che i fondi siano sufficienti, questo è un po' un tema da capire, è un tema che più volte è stato posto in commissione perché più volte abbiamo chiesto anche una quantificazione precisa che fatica ad emergere, probabilmente anche per dei problemi tecnici o per altri motivi. Insomma, quindi se i fondi sono sufficienti lo dirà anche un po' il tempo e quindi bisogna essere secondo me prudenti nell'immaginare che il Trentino di quel fenomeno avrà una gestione lunga negli anni. A parte i tempi lunghissimi che la natura ci darà per rigenerarsi e questo dobbiamo metterlo in conto, cioè dal punto di vista paesaggistico e dal punto di vista della sicurezza. Credo che se la commissione riuscisse alla fine a indirizzare su due o tre linee il lavoro della giunta, quindi anche sulle priorità dal punto di vista della ricostruzione, sulle attenzioni e lì allerta anche dal punto di vista della gestione del territorio perché qualcosa quella tempesta ci ha insegnato a partire insomma dall'esondazione di Di Maro. Noi abbiamo un po' sottovalutato i famosi tempi di ritorno che col clima cambiato adesso quei tempi di ritorno rischiano di essere anche più corti, quindi questo per esempio può essere anche tema di riflessioni urbanistiche per esempio durante questa legislatura perché il Trentino è pieno di piccole leggerezze magari dal punto di vista edificatorio, dall'altra può sicuramente rivendicare che la buona gestione territoriale vecchia di 40 anni e non merito degli ultimi 5-2010 è quello che ha fatto la differenza perché altrimenti probabilmente i danni e i morti sarebbero stati maggiori. Quindi prendiamo atto e lo stiamo prendendo di un buon sistema che è il Trentino, cogliamo la tempesta con l'occasione di riflessione ulteriore. Si parlava di quantificazione dei danni Job, è difficile farlo anche perché adesso possono uscire altri nuovi danni? Prima di entrare in onda mi accennava ad una strada che si è scoperta adesso essere impraticabile. Diciamo che la quantificazione con questo tipo di evento iniziale era stata fatta in 300-350 milioni, gli ultimi dati ce ne danno 300, magari non è escluso che possa essere qualcosa in più anche perché le domande vengono affrontate, vengono studiate ma poi dopo il contributo della provincia, quello che sarà veramente speso da parte della provincia per aiutare chi ha avuto i danni sarà a consuntivo, quindi a fatturazione, aspettiamo. Diciamo che veramente dire una cifra precisa sarebbe una bugia, però soprattutto il fatto che è successo in autunno, è arrivato l'inverno, alcuni danni, alcune strade, poi anche un mese fa c'è stato un altro colpo di vento che è passato non così importante come quello dell'autunno, però alcuni danni li ha creati in alcune valli, ci sono stati dei colpi di vento anche i primi di maggio, quindi questa cosa ci fa pensare che sicuramente ci sarà qualche spesa in più, quindi anche la Giunta è partita col freno a mano tirato, non ha voluto promettere troppi soldi, ma non perché è bello per un politico promettere del denaro, però giustamente Fugati e anche gli assessori dicevano stiamo attenti perché prometterli e poi non darli è meglio magari dire valutiamo e poi, perché c'è stata anche una discussione in Consiglio, abbiamo avuto anche un attacco da parte di un consigliere per non fare nomi, ci ha detto bisogna dare i soldi, sì è vero, è bellissimo prometterli, però per darli bisogna averli, quindi credo che la strategia, il modo di operare, il ragionamento fatto alla Giunta sia stato corretto perché effettivamente l'aiuto così a botta calda spesso non porta risultato, è meglio confrontare, vedere, valutare e dare veramente il peso a ogni situazione che va dato, perché poi c'è sempre, altrimenti si corre il rischio di far contenta una parte di popolazione e una parte no, abbiamo avuto molti schianti, quindi molte lamentelle da chi ha avuto gli schianti, però allo stesso tempo abbiamo delle lamentelle da chi non le ha avuti perché il mercato è bloccato da questa situazione, quindi è molto in equilibrio da mantenere molto difficile. Questo è l'onere di chi governa. Esatto. Io credo che Manica sappia dove recuperare le risorse eventualmente per ricostruire una strada, lo dico come una battuta, ma insomma parliamo ovviamente della Val d'Assico, lei sarebbe d'accordo nel sottrarre risorse a questa grande opera che da sempre è la vista contraria per magari realizzare più strade che ad oggi sono prese inaccessibili. Guardi, è una battuta ma un se, un che di verità, perché io ho anche più volte rinfacciato, diciamo così, alla maggioranza che nella presentazione del programma legislatura sia il presidente che la capogruppo fecero un lunghissimo elenco di strade, una cosa che impressionò dalle parti minoranze arrivando a dettagli che normalmente appartengono agli uffici, quindi la battuta viene anche facile, forse qualche strada in meno che probabilmente non serve, è un investimento in più nella manutenzione dell'ambiente, nella tutela dell'ambiente e nella protezione poi di chi abita su questo territorio. Nessuno nega che trovare quegli importi lì siano sfide complicate all'interno del bilancio, tant'è che si era anche suggerito per esempio di riattivare il debito per questa partita, scelta che la Giunta non ha voluto fare, scelta che peraltro mi risulta che un po' stia mettendo sotto pressione il bilancio perché dovendo svuotare altri capitoli per rispondere all'emergenza, poi i mesi passano, quei capitoli chiedono di essere utilizzati, quindi credo che l'assestamento dovrà affrontare rapidamente anche questa partita. Il tempo sta chiedendo il conto già alla Giunta perché sei mesi sono pochi oggettivamente per valutarla, quindi siamo ancora nella cosiddetta luna a livello post-elettorale, però i dati di questi giorni sulla sanità in qualche modo pongono la maggioranza di fronte al tema del governo, cioè che a un certo punto ciò che vuoi fare deve misurarsi, io lo so, è stato amministratore locale con la borsa che hai e con i conti della ragioneria, adesso sta emergendo sulla sanità e poi potrà emergere su altri temi, tutto non si può fare altrimenti tutti sarebbero amministratori splendidi e sempre benvoluti, quindi a un certo punto arriverà il tempo delle scelte, la contraddizione tra la riapertura, la promessa degli ospedali di valle e la sanità che deve contrarre risorse è uno degli esempi di contraddizione. Ovviamente io mi auguro che sulla questione della ricostruzione del ripristino ambientale ci sia la capacità complessiva del Consiglio di dar priorità dal punto di vista del reperimento delle risorse e questo penso sarà un impegno eventualmente anche nei bilanci successivi. La Val d'Assi così farà, Iob, lei insomma è convinto di questo perché anche il governatore Fugatti, sempre detto e ora a maggior ragione è una delle priorità anche se ancora mancano comunque dei progetti tecnici effettivi anche sugli svincoli che riguarderanno il Trentino, ma rispetto anche a quello che diceva Manica riguardo i tagli della sanità, questi 120 milioni di euro che l'assessora segnana ha chiesto di efficientare e non di tagliare rispetto appunto alla sanità. Non si rischia in qualche modo di impoverire il sistema sanitario generale magari per mantenere gli impegni presi in campagna elettorale per l'apertura del punto nascito e quindi dei servizi per pochi a scapito invece di un sistema più ampio? Impoverire lo cambierei con ottimizzare, nel senso farei una valutazione di un altro tipo. Nello specifico del lavoro dell'assessore segnana non mi permetto di entrare, però conoscendo la persona e conoscendo il suo modo di lavorare credo che fosse la stampa un po' sparato alzo zero, credo che sia un'idea, un progetto di ottimizzare quello che è la nostra sanità perché comunque lo sappiamo benissimo, Manica meglio di me, però la spesa maggiore del bilancio finisce nella sanità. Quindi credo che sia un'ottimizzazione e lascerei in questo momento la risposta, ma soprattutto il tempo e la possibilità di lavorare l'assessore per vedere se questo taglio non possa essere invece che un taglio, un'ottimizzazione perché all'interno della sanità abbiamo diversi capitoli che non vanno solo sugli ospedali ma in diverse altre strutture e quindi aspetterei un attimino a dare valutazioni, darei il beneficio di poter lavorarci sopra. Per quello che riguarda la Valdastico, Fugatti e la Lega hanno promesso in campagna elettorale che sarebbe stata un'opera tra le prime da eseguire, quindi credo che sia un'opera che la Lega porterà avanti perché è stata promessa, salvo idee diverse all'interno della maggioranza penso proprio che verrà fatta. Manica, lei d'accordo, si tratta solo di un gioco di parole o poi i fatti insomma confermeranno che alla fine si parla di tagli al personale, no non è corretto, però di efficientare il personale magari del settore sanitario e alla fine la realtà poi come si concretizza? Accetti alla sfida, vediamo se l'assessore Sagnana riuscirà a togliere quelle briciole di 120 milioni senza riversare questo in caro di servizi. A me il premier sottolinea la contraddizione tra proporre nuove spese e dover già tagliare quelle attuali, quindi qua c'è una dicotomia. Tornando alla Valdastico che prima magari ho sorvolato, io ho qualche dubbio che verrà fatta, sono di lungo corso dal punto di vista politico, sulla Valdastico ho visto negli ultimi vent'anni tante accelerazioni, questa è la più folle di tutte, nel senso che propone uno sbocco che la stessa Serenissima aveva scartato per le difficoltà ambientali e geologiche ed anche per la riduzione del vantaggio trasportistico perché esce troppo a sud. Detto questo io rimango convinto che la Valdastico sia incoerente col modello, c'eravano dati di Trentino che voleva puntare sulla ferrovia, è uno spreco inutile di territorio e di risorse. Siccome resto convinto che la spinta sulla Valdastico sia una spinta per il rinnovo della concessione dell'A4, se la politica riuscirà a rinnovare quella concessione per altre strade, la Valdastico tornerà nei cassetti. Ora, sia perché è promessa elettorale, sia perché il Veneto non ha ancora rinnovato quella concessione, siamo di nuovo sullo scontro sulla Valdastico. Io confido che rimarrà ancora un'opera vecchia di 50 anni. Ringrazio davvero i miei ospiti, ringrazio il consigliere della Lega Ivano Job, ringrazio il consigliere dell'APD Alessio Manica, grazie a voi, buon lavoro in aula, visto che oggi si ricomincia, non avete mai finito però da oggi si torna anche in aula. Grazie a voi per essere stati in nostra compagnia, buongiorno da RTTR, torna domani mattina, vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.